può succedere o no perché magari il cavaliere non lo ha comunicato molto chiaramente quello che voleva o probabilmente la dama è distratta vediamo adesso come arrivarci anche in un altro modo a questo 5 l'abbiamo fatto con la camminata dritta vi darò un'altra opzione ma mi soffermerò soprattutto sull'incrocio ci sono pallocchie